Cosa potrebbe fare un appassionato di motorsport con 2 euro oggi? Cosa potrebbe fare un appassionato di motorsport. Con Motorsport Prime puoi avere nel palmo di una mano il meglio dell'informazione motoristica sportiva a 1,99€ al mese. Vivi al massimo la tua passione e accedi a tutti i contenuti esclusivi che ti abbiamo riservato. Iscriviti subito! Motorsport Prime e sei in pole position! Rinnovalo ogni mese o scegli il piano che fa per te. Puoi annullare quando vuoi!